Il prete 52enne Don Francesco Cassol è stato ucciso a fucilate sulla murgia barese. L'uomo è stato raggiunto da proiettili mentre era addormentato in un sacco a pelo nelle vicinanze del pulo di Altamura, dopo aver guidato un raduno spirituale itinerante. Il raduno era partito mercoledì scorso da Longarone, in provincia di Belluno, dove Don Francesco è parroco, con 17 fedeli tutti settentrionali ed un solo straniero. I raduni organizzati da Don Francesco Cassol sono molto intensi, generalmente si percorrono diversi chilometri a piedi durante il giorno, per poi accamparsi in luoghi deserti e silenziosi di notte. Proprio per questo la murgia barese è stata la meta prescelta di quest'anno, con Minervino murge base del cammino itinerante. Secondo le testimonianze dei fedeli al seguito di Don Francesco, intorno a mezzanotte si sarebbe udito un forte rumore e poi un'auto allontanarsi a forte velocità, ma nessuno avrebbe dato peso all'accaduto. Solo intorno alle sei è stata fatta la macabra scoperta del corpo senza vita del parroco. I carabinieri indagano sull'accaduto, tutti i partecipanti al raduno sono stati ascoltati dagli investigatori come persone informate sui fatti. Grazie. Grazie. Grazie.